Stiamo parlando di un settore che fattura più di 3 miliardi di 200 milioni di euro il che dà anche una dimensione della mole di materia prima e soprattutto di tecnologia che noi riusciamo ad ascoltare. È una dell'eccellenza del Veneto? È un'assoluta eccellenza, è uno dei grandi biglietti da visita del Veneto e lo siamo sia sul fronte del materiale lapide o quindi della pietra in generale ma in particolar modo poi di tutto quello che è la tecnologia. Il marmo nel mondo viene lavorato dalla tecnologia veneta e questo è bene ricordare. La fiera è un marmo ma che è sempre più internazionale, che effetto le fa? Ma è di un orgoglio estremo, visto che questa fiera si sta facendo spazio a livello internazionale. Fiera Verona è fiera di Vinitali, la più grande fiera a livello internazionale dei vini, la fiera Cavalli, anche qui siamo i primi al mondo. Marmo ma che altro primato e sta parlando di un comparto che fa oltre 3 miliardi di 200 milioni di euro di fatturato ma soprattutto un comparto che può vantare di avere oltre 170 paesi presenti qui.